La religione degli ebrei è oggi diffuso in tutto il mondo, praticato fuori di Israele e dalle comunità della diaspora, formatesi in seguito ai fenomeni di emigrazione che, spesso a causa di persecuzioni ed espulsioni, hanno caratterizzato l'intera storia ebraica. È comunque necessario puntualizzare il fatto che non tutti i 18 milioni di ebrei presenti nel mondo praticano la religione tradizionale, nell'ambito della quale non mancano più orientamenti diversi tra loro a contrasto. Caratteristica fondamentale dell'ebraismo è un monoteismo radicale, la fede di un unico Dio, il creatore di un universo che governa providenzialmente dall'inizio dei tempi. Israele estime la consapevolezza che Dio abbia parlato al suo popolo e, nel corso della storia, la scrittura sacra, la Bibbia, documenta le tappe di questa liberazione progressiva, interpretata dagli ebrei come un'alleanza, Berit, che Dio ha istituito con loro in quanto popolo eletto, chiamato a conseguire gelosamente i precetti della legge. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.